Ti parebbero pure che Zeman ha avuto un casino di licenziamenti, quindi ha pagato poco questo bel gioco. Sì, è vero, ma se alla fine andiamo a vedere ha tirato fuori Immobile, Signori, Verratti, Insigne, Vucinic, Vucinic. Ma eravate già forti. Ti vergogni che è meglio, dai, su, ma veramente stiamo parlando di... Ma voi eravate già forti, non è che Verratti se lo inventa? Io non ero nessuno, sono arrivato a Foggia che avevo fatto 5 gol a Piacenza, di cui 3 su calcio di rigore, quindi... Tu ti senti a Zeman non se l'essi arrivato? No, 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 sei troppo forte. Io, per come ho detto, ho avuto tanti allenatori e un maestro di calcio che è lui. Camelio, io direi che puoi anche uscire, eh.